Seconda giornata del campionato di eccellenza e un quartetto, Volpiano, Lascaris, Oleggio e Accademia Borgomanero prende il comando delle operazioni, il Volpiano ha travolto 5 a 1 lo Stresa. L'Accademia vince di misura col settimo grazie a una rete di Alfarano al sedicesimo minuto, l'Oleggio regola 2 a 0 i Valdostani della Igreville, mentre la quarta capolista, il Lascaris, ha la meglio 2 a 1 sulla Licese. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.